La leggenda del guerriero dragone ha molti colpi di scena. Il viaggio del guerriero lo portò attraverso molte prove e molte terre, dove affrontò molti nemici. Nonostante si dica che abbia vagato attraverso terre desolate e sulle impronte di altri meno potenti e meno magnifici eroi caduti, il suo coraggio non venne mai meno. Così come non vennero meno la sua grandezza o la sua resistenza, si dice fosse inarrestabile. Una forza distruttiva, inarrestabile ed incredibile maestria nel Kung Fu! Grazie per la visione! Nonostante il maestro del Kung Fu fosse accaldato, stanco e completamente perso, niente poteva fermarlo. Ah, sono così deluso! Fame! Fame! Po! Po! Dove? Che? Alzati guerriero dragone, è ora di affrontare il tuo destino. Maestro Ugwe, è davvero lei? Certo! Perché me lo chiedi? Ecco, beh, sta tipo fluttuando e poi ha della roba fluorescente attorno. Sì? E poi c'è... Ehi, dove hai preso quel biscotto? Guerriero dragone, segui il tuo istinto. Segui i biscotti. Il mistero di questo luogo ti sarà rivelato. Segui i biscotti, guerriero dragone. Biscotti alle mandorle, bene! Mi avete provocato e sono tutto vostro. Sblocca il segreto dei luoghi dell'allenamento di Tai Lung. Libera! Se mi perdo, posso seguire queste torce. Inciampa per salire sulle rampe più corte. Quindi usale per prendere slancio e raggiungere le rampe. Dovrei riuscire a prendere abbastanza velocità usando queste rampe. Più alta è la... Più alta è la... Più alta è la... Wow 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 Wow! Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. 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 Sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, 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 sì, vai, 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 vai. Biscotti. Sì, sì. 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 Sì, sì.